I babaci sono piccoli pupazzi realizzati con materiale di recupero e da un anno sono anche loro, ci piace pensarla così, nuovi abitanti di Poggio Sannita. Sono figli del posto nati dalle sapienti, mani artigiane di Fausta Mancini e Maria Porrone, due donne del posto che si sono dedicate con pazienza e tanto amore alla creazione di questi nuovi simpatici e curiosi cittadini di Poggio Sannita. La parola babaci è una parola nordica derivata infatti dal nord. Babaci significa pupazzi di pezza costruiti con roba di riciclo, diciamo che contribuiscono anche il cittadino con vestiti, scarpe, diciamo roba da riciclo. L'idea è nata così per caso, diciamo che sai quelle solite notte d'insonnia, pensando che il mio paese, perché lo amo così tanto, dice peccato questo spopolamento purtroppo come altri paesi, così pensando, dice perché no, mi è venuta questa idea di realizzare questi babaci, più che altro a dare un tocco di luce, una vitalità al paese e poi più che altro come attrazione, diciamo, attrazione per turisti. Sono un centinaio i babaci e li si può vedere ovunque in paese, fanno capolino tra le strade, nei vicoli, sui balconi rappresentati mentre lavorano nei campi o mentre fanno la pasta in casa, le tradizionali sagne a pezze o giocano a carte nel bar. Cittadini particolari dunque speciali, teneri e simpatici. C'è una procedura particolare, diciamo, per riempire questi vestiti, diciamo così. Cominciamo dalla testa, all'interno di questa stoffa, e aiuta più che altro, c'è una busta di plastica con dentro lana oppure altro materiale e poi per collo delle bottiglie di plastica che poi vengono infilate qua perché questo è un pantalone come vestito, ma sotto ce n'è un altro di pantalone che è riempito di lana e ci sono delle canne per reggerle all'impiede, questi babaci. I babaci di Maria e Fausta vogliono essere una forma attrattiva di turismo che si basa sul concetto di land art, con un chiaro messaggio sociale, porre l'accento sulla lotta allo spopolamento vera piaga di tanti paesi, non solo molisani.